Come sempre in cucina può capitare, guardate! Mettiamo un pizzico di sale Dobbiamo sbattere circa 3 minuti Poi aggiungiamo zucchero Prendiamo farina Aggiungiamo anche lievito di birra, 6 grammi Sopra mettiamo Io pensavo che già farina è bianca Vedi che no! Lievito più bianco Dare due parole, per favore Allora dico io Mescoliamo con una frusta Piano piano Amida di mais Qui abbiamo le nocce Nociche piccoliche, 100 grammi Prima erano grandi Poi così piccole ho fatto io Mettiamo in forno a 170 gradi per 40 minuti Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo per un paio di ore Ora facciamo la crema Dobbiamo dividere i tuorli dall'albuno Mettiamo zucchero Aggiungiamo 150 grammi di mascarpone Un pizzico di sale Un pizzico di sale E poi sarà troppo liquido Adesso dobbiamo tagliare a pezzettini Riusciamo magari a fare a tre Un pizzico di sale mettiamo in frigo per un'ora un po' di cacao e mettiamo anche un po' di pistacchi wow che morbido molto buona bravo